Ci sono pochi posti disponibili per la Formula 1 2025, e tantissimi piloti naturalmente sperano di avere il biglietto per il paradiso. Tra questi ce n'è uno che in Formula 1 c'è già stato e vuole una seconda chance. Si tratta ovviamente di Mick Schumacher, più volte accostato ad Alpine, del cui programma UEC fa parte, e Kicks Aubert. Nella pratica, l'unica porta aperta sembra quest'ultima, perché i francesi sono intenzionati a promuovere Jack Duan. Considerando chiuse a doppia mandata anche Mercedes e RB, l'unica via percorribile è proprio la Sauber, il team più debole dell'otto. Un team che però nel 2026 diventerà Audi, e potrebbe schierare una coppia tutta tedesca Hülkenberg-Schumacher. Benché per quel sedile ci siano anche altri pretendenti. Le quotazioni di una permanenza di Valteribotta sono salite nelle ultime settimane. Ma si sono fatti anche i nomi di Teopo Urcaire e Gabriel Bortoleto sul suo futuro, il figlio di Kaiser Michael si è espresso così. Dovremmo aspettare e vedere. Penso che tutto sia molto aperto in Formula 1 al momento. Ci sono ancora tre o quattro squadre che hanno dei posti disponibili. Un pilota in particolare era il tappo della bottiglia. Il riferimento è naturalmente a Carlos Sainz. NDA. Queste le sue parole al portal e dive bombora si apriranno sicuramente molti movimenti nelle altre squadre. E penso che tutto andrà abbastanza rapidamente. Molte squadre non hanno la pressione di prendere una decisione in questo momento. Cosa che lascia anche me un po' in sospeso. Tuttavia, la Formula 1 avrà sempre la priorità in tutto ciò che faccio. Quindi, finché non sarà completamente chiusa per me, la aspetterò e mi concentrerò su questo. Ha concluso.